L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, insieme a Sicilia Film Commission, cofinanzierà la produzione di 19 nuovi progetti cinematografici e audiovisivi. Questo contributo alle case di produzione completa il piano di investimenti, interamente finanziato con risorse del bilancio regionale, di oltre 6,6 milioni di euro, destinato allo sviluppo dell'audiovisivo in Sicilia. Sono state ultimate le valutazioni delle proposte presentate entro lo scorso maggio, nell'avviso pubblico per la concessione degli aiuti alle imprese nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive per gli anni 2023-2024, e sono stati approvati gli elenchi delle stanze ammesse e non ammesse a cofinanziamento per ciascuna delle seguenti distinte categorie, film di produzione cinematografica televisiva, serie tv anche in animazione, documentari e serie tv documentarie anche in animazione, cortometraggi. Alla fine della valutazione sono stati ammessi al cofinanziamento 12 produzioni tra film per cinema e per tv e serie televisive, 5 documentari e 2 cortometraggi. I 12 film e serie sono Il Gatto Pardo, Santo Cielo, Macari 3, Un Giorno d'Estate, Ombre dell'Anima, Just Mari, I Fratelli Corsaro, Memoria da Mexico City, Il Brutto, Anche nelle Migliori Famiglie, Eterno Visionario, Svenduti. I 5 documentari sono Dani Finni, Il Cassetto Segreto, Symbiosis, AZ112, The Last Lesson. I due cortometraggi sono Notti d'Estate e Al Buio. L'importo dei vari finanziamenti varia da un massimo di un milione di euro per i film Il Gatto Pardo ad un minimo di 6.500 euro al cortometraggio Notti d'Estate. La realizzazione di questi progetti cinematografici consentirà di promuovere e valorizzare l'immagine del territorio siciliano, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire in Sicilia la crescita professionale degli operatori del settore. Le produzioni inoltre sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a reinvestire nell'isola almeno il 150% del contributo ricevuto. L'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata ha dichiarato Attraverso questo provvedimento diamo seguito alla strategia di sviluppare in Sicilia l'industria del cinema che cofinanziando produzioni audiovisive di portata nazionale e internazionale promuovono il turismo verso il nostro patrimonio culturale e architettonico riuscendo al contempo a offrire occasioni di sviluppo e di lavoro in favore del territorio regionale. L'elenco completo delle produzioni che hanno partecipato al cofinanziamento è consultabile attraverso un link disponibile sul portale istituzionale della regione siciliana.